Ciao e bentornati sul canale. Oggi vediamo in Final Cut Pro come esportare con un alfa channel, ovvero un canale alfa, un canale in trasparenza. Perché può esserci utile? Può esserci utile perché magari abbiamo elaborato un titolo o della grafica, anche magari un logo in movimento e vogliamo esportarlo per poterlo riutilizzare tranquillamente in altri progetti in futuro. È utile anche se vogliamo fare un export appunto con un alfa channel per poterlo riutilizzare magari anche su un altro programma di editing come può essere DaVinci Resolve. Vediamo come fare. Bene, siamo in Final Cut. Da Generators qui ho inserito due Generators sulla timeline. Benissimo. Supponiamo che io abbia creato un logo, un'animazione o un titolo come questo qui che state vedendo. Ecco, supponiamo che io questo voglia riutilizzarlo anche su altri progetti, su altri progetti in cui cambio lo sfondo. Che cosa faccio allora? Con il tasto V disabilito il Generators e quindi ho disabilitato questo. Ora lo esporto. Tasto R, Range Tools. Vado su Share, Export File, in Settings. Di solito usiamo H.264 per YouTube. Esportiamolo in ProRes 422 HQ. E questo sarà 422. 222. Eccolo qui. Andiamo ad inserirlo. Bene. Andiamolo a vedere cosa succede. Non è trasparente, quindi il nuovo Generator sotto non è visibile. Allora, esportiamolo nuovamente. Come dobbiamo fare? Andiamo su File, Share, Export File. In questo caso andiamo in Settings e scegliamo Apple ProRes 4444. Come vedete le dimensioni del file sono più grandi. E' come prima. Ora, se lo andiamo a visualizzare, come vedete ha mantenuto il nuovo Generator come sfondo, quindi è trasparente. Esportare con un Alpha Channel può esserci utile anche nel caso in cui, avendo elaborato un titolo, un'animazione, vogliamo esportare questa grafica anche in un altro programma di editing, come può essere Da Vinci Resolve. Quindi, in questo caso per esempio, lo trasciniamo sopra e come vedete permette di essere utilizzato. Per esempio, magari avete comprato dei plugin con dei titoli in Final Cut e vorreste riutilizzarli in Da Vinci Resolve. Non è stata ancora rilasciata la versione per Da Vinci Resolve. In questo caso potete utilizzarli. Li create in Final Cut e poi li riutilizzate in Da Vinci Resolve. È ovvio che qui non potete andare a controllare i colori, le dimensioni, eccetera, come farebbe un plugin rilasciato per Da Vinci Resolve. Però penso che sia un qualcosa di molto utile. L'Apple ProRes 4444 è un codec di Apple, universalmente riconosciuto come uno tra i migliori, perché ha una grande qualità, un'ottima qualità e lo rende quasi indistinguibile dal materiale originale. Tant'è che viene utilizzato sia a livello professionale per motion graphics e composite, nello scambio magari di lavori tra grafici o anche per lo storage del materiale registrato. Ha un target data rate di circa 330 mbps per una sorgente 444 in HD a 30 fps. Insomma, parliamo di qualità molto alta. Ovviamente sono file molto pesanti. Mi auguro vi sia stato utile. Lasciate un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale. Ci vediamo alla prossima. Ciao!